Da mercoledì e fino a domenica Napoli sarà capitale del tennis in carrozzina. Cinque giorni di sport e divertimento per i 50 atleti paralimpici in gara che si cimenteranno nelle quattro discipline alla caccia degli scudetti dei campionati italiani assoluti. La presentazione alla Canottieri Napoli, alla presenza degli organizzatori dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Vesuvio e del Comitato regionale campaneo della Federtennis con in prima fila il presidente Michele Raccuia. La prima volta che questo evento si viene fatto nel mezzogiorno e a Napoli in particolare. Siamo orgogliosi di ciò ma a dimostrazione che il tennis campaneo non è solo tennis agonistico ma anche sociale e tanto altro. Ci aspettiamo tanto pubblico per far vedere che anche il tennis può essere una delle attività che può essere utile per quanto riguarda i diversamente abili. Gli assoluti si disputeranno al rama club della famiglia Bellucci, sempre pronto a ospitare iniziative sportive che hanno anche un riscontro nel sociale. Sui campi in terra rossa del centro federale campano di fuori grotta con il quartier generale organizzato al pala barbuto, a pochi metri dagli impianti di tennis. Domani il sorteggio dei tabelloni, poi gare fino alle finali di domenica.